salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco siamo ancora su shikoden 5 e oggi si va di trama si va si va di trama avremo una parte di trama forse qualche reclutamento ora che ci penso però ragazzi adesso la situazione si sta iniziando a fare molto interessante si sta iniziando a fare molto interessante perché l'insleya è stata incoronata regina quindi ufficialmente adesso siamo in guerra con nostra sorella dato che le truppe che affronteremo non saranno più le truppe di lord godwin ma saranno dell'esercito di falena quindi sì è come se stessimo tradendo noi stessi in fin dei conti ma ovviamente chissà la verità sa che non è così oh prince huh you're all by yourself lucretia that's rare yes well up until now godwin has been our main adversary but now our enemy will be the new queen glimslia and the queendom of falena itself of course this will just be for outward appearance and our real enemy won't change at all but sometimes outward appearance can take on important significance prince if you had to raise a sword against your sister would you be able to do it yes i see that's fine then esatto la risposta la risposta puntini puntini avrebbe messo un po in crisi lugrezia perché lei come ben sapete ci ha sempre detto che sarà la nostra stratega ma agirà sempre però per i fini della sua coscienza quindi in questo caso se noi non avessimo risposto e avessimo in un qualche modo accettato quasi passivamente di attaccare la sorella ci sarebbe stato un po di freddura però in questo caso lucrezia capisce che noi per l'appunto siamo comunque dalla parte del giusto e quindi questa è la strategia che vuole utilizzare la nomina di limsley a nuova regina ha di certo risollevato il morale dei godwin io suggerisco di smontare il loro entusiasmo prendendo dorat dorat ma lì non c'è una fortezza enorme si dopo stormfist è la roccaforte più grande dei godwin dobbiamo conquistarla se vogliamo estendere la nostra influenza più a occidente di l'elkar e adesso è il momento ideale beh non proprio adesso non siamo ancora pronti a fare la nostra mostra vostra altezza il piano deve essere perfezionato l'esercito ribelle non ha mostrato alcuna intenzione di riconquistare il rango immagino che continueranno ad avanzare verso ovest per tentare di prendere dorat sentite gizelle è comunque molto intelligente alenia ti affido le nostre forze di terra spostale a difesa di dorat sì alto comandante potete contare su di me non ho paura della runa dell'alba hai coraggio alenia ora mia kiss che c'è vorrei che accompagnassi alenia dorat in qualità di sua assistente assistente mi e kiss vera con me assolutamente no il mio dovere è proteggere la principessa io non sono un assistente a quanto pare dimenticate che io sono il nuovo comandante dei cavalieri della regina è un'altra cosa l'islea non è più la principessa e la regina proteggere la regina non è compito tuo è mio aia essi ragazzi adesso i ruoli sono cambiati li abbiamo taylor nel frattempo svolge edizione speciale edizione speciale svelata la verità dell'incendio di l'elcar rimangono poche copie leggete tutto finché potete non siate gli unici a non conoscere la verità ehi ma che razza di immondizia scrivi i cavalieri della regina lord godwin non hanno niente a che fare con l'incendio di l'elcar capisco il tuo scettisismo buon uomo se io non fossi un intrepido reporter dubiterei di questa storia ma l'ho visto con i miei occhi l'ho visto mentre facevo l'inviato in prima linea ho scritto tutto sul mio fedele bloc notes questo giornalista non mente anch'io l'ho visto con i miei occhi l'isolotto occidentale di l'elcar è un cumulo di macerie i cavalieri godwin l'hanno fatto apposta forza ci devono essere altri profughi di l'elcar qui chi altro vuole raccontare la verità so che siete lì hanno bruciato la mia casa e lo hanno fatto di proposito non starei dicendo sul serio invece sì credevo che i cavalieri della regina le truppe di lord godwin avrebbero protetto la nostra città non hanno fatto niente del genere hanno distrutto tutto quello che la mia famiglia aveva costruito in tanti anni hanno dato fuoco alla città come diversione per scappare e hanno fatto morire tantissima gente che egoisti è inumano avrebbero ucciso i propri concittadini solo per salvarsi ci hanno salvato le truppe del principe se non fosse stato per loro saremmo tutti morti io conosco un abitante di l'elcar ha perso la sua casa sua moglie e il suo unico figlio non gli è rimasto niente niente come osano i godwin usare i loro compatrioti come scudi umani come osano uccidere donne e bambini leggete tutto sulla tirannia dei godwin scoprirete cosa dicono le mie fonti sulla loro sulla loro prossima mossa edizione straordinaria adesso toccherà dorat solo qui in tutta falena potete leggere la verità nuda e cruda fammi vedere dobbiamo sapere gli altri sporchi trucchetti useranno i godwin eh taylor molto furbo molto intelligente non ricordo se questa scena appariva nell'eventualità noi non avessimo avuto taylor dalla nostra parte credo che questa sia una scena collegata al fatto che noi abbiamo reclutato taylor e anche oboro dai qua devo sapere la verità ok ok non c'è bisogno di spingere ci sono copie per tutti hai fatto se giri si la strada a sud è coperta ho appena finito con la strada al nord è stato facile forse si stanno già spargendo le notizie dell'elcar ma che serve tutto questo e come faccio a saperlo è tutta una bella scorciatura è un'idea di quella donna e il capo è d'accordo comunque ci penseranno loro stiamo spargendo un pochettino di malcontento tra i cittadini per far perdere un po il morale ovviamente ai godwin che adesso diventati legittimi proprietario comunque legittimi padroni in questo caso di falena è un po è un po particolare allora fatto ciò noi tecnicamente penso che dovremmo ritornare sì credo che dovremmo ritornare da lucrezia e adesso siamo praticamente pronti per partire alla volta di l'elcar reclutamenti li abbiamo fatti tutti per il momento quindi non c'è altro da fare dobbiamo necessariamente progredire un po con la storia anche perché qui grazie a questa battaglia otterremo una stella del destino molto molto importante siamo pronti a conquistare dorat vostra altezza ci serve solo un vostro ordine molto bene vostra altezza iniziamo i nostri esploratori ci hanno informato che elenia cavaliere della regina è arrivato a dorat i godwin stanno mostrando segni di disperazione siete pronti a tutto dovete dare tutti il massimo alla vittoria e vedete qui adesso abbiamo praticamente tutti i rappresentanti dei nostri alleati tanta tanta roba allora qui abbiamo carica debolezza recupero e carica allora io adesso un secondo qua devo vedete qui adesso noi possiamo decidere quali truppe possiamo utilizzare e quali truppe no e questo è un vantaggio incredibile adesso perché possiamo gestire tutti quanti i nostri uomini quindi mi serve un'unità con i cavalli se ce l'abbiamo che credo sia ok dean ed egbert addirittura a cavallo quindi dean a cavallo poi ovviamente mi servono archi però portiamoci ovviamente gente di terra che sappia effettivamente combattere a terra e non di mare ok alza red è ottimo perché anche la luna terra poi direi un altro cavallo un altro archi perché come fanti già ci siamo noi quindi egbert e altri a poter portare altri fanti in realtà forse perché non ricordo allora cavallo archi cavallo si potrei portare un altro si un'altra diciamo la lancia in questo caso che sarebbero fanti mentre invece le navi da battaglia abbiamo ecco queste cose che sono combattenti fualu fualu abbiamo rodere anzi in questo caso facciamo così abbiamo riposa parca miseria abbiamo rodere o riposa non c'è non possiamo fare altro va bene rodere vedete i minimi diciamo i castori saranno solo castori poi qui abbiamo non abbiamo allora frecce ce l'abbiamo combattenti ce l'abbiamo a rieti non ne abbiamo non abbiamo a rieti abbiamo solo archi oddio non la ricorda scusami ma boz non doveva avere la rieta io ricordavo che boz avesse la rieta e si perché vedete ha la nave diversa mentre invece i castori possono praticamente muotare quindi va bene così allora qui invece cosa abbiamo carica carica vabbè tutte cariche qui su bala addirittura doppia carica allora feilen con un'altra carica confusione debolezza morale riposa sarebbe interessante matias addirittura due cariche ok e arti curative poi qui abbiamo terra recupero per due non sarebbe male per lo sbarramento ora non ce l'abbiamo ah è un'altra terra va bene poi doppia carica turbo non sarebbe male un'altra carica let's go andiamo di cariche a tempesta carica no sbagliato e un'altra carica ok direi che ci siamo abbiamo più cariche possibili per evitare di perdere hp run alba per curare le arti curative recupero ok dovremmo esserci let's go qui c'è una cosa molto importante da fare ovvero non combattere troppo vicino al fiume siamo in perdita totale ascoltatemi frati soldati in questo glorioso giorno combatteremo la prima battaglia per sua mestà la regina limsleya e sua maestà gizelle la sconfitta non è contemplata daremo alla coppia reale una grande vittoria per un futuro migliore la principessa non vuole certo un futuro del genere mia kiss come osi mostrare in maniera così evidente tanta insolenza anzi come faccio a sapere che non ci tradirai stai dimenticato chi è stata la prima a tradire avanziamo lentamente non avvicinatevi troppo a dorat esatto dobbiamo praticamente portare la truppa del principe dentro dorat però se joe o la dahak vengono distrutti si perde quanto mi piacciono le battaglie strategiche mamma mia ok qui abbiamo praticamente anche le truppe di mare e qui abbiamo le truppe di terra quindi dobbiamo gestire il nostro combattimento ecco esatto vedi boz alla riete che mi serve poi la dahak che la portiamo qua la truppa della dahak è un po' un fastidio perché c'ha zerase che mi sarebbe piaciuta averla con con stella con stelle che sarebbe stata fighissima però questa è una truppa preimpostata purtroppo allora vi facciamo avanzare anche un pochettino le truppe di terra ovviamente ricordatevi che la truppa la truppa del principe è quella che deve avanzare più lentamente allora sto cercando di vedere se loro si iniziano a muovere guardate quanto è 300 300 300 cioè è un casino allora ancora non si stanno iniziando a muovere io sto tentando ecco si stanno iniziando a muovere perfetto allora la riete noi siamo forti contro la riete ok torniamo indietro questo uguale questo è più forte questo è più debole ok portiamo indietro anche la da hack ok facciamo muovere boz da questo lato ok qui possiamo attaccare qui boz lo possiamo far attaccare non abbiamo ancora possibilità di sbarramento sembra che sia giunto il momento siete pronti? si ecco qua avete capito vero? dovete solo fare un po' di fumo non bruciate tutta la città ok ok ho capito che scorciatore vedete stanno facendo la stessa cosa di Elkar lei di Elenia c'è del fumo che proviene dalla città cosa? del fumo? al fuoco al fuoco proprio come all'Elkar è vero guardate il fumo è come all'Elkar dannati Godwin vogliono andare a suolo anche la nostra città no non voglio bruciare viva non voglio perdere la mia casa e la mia famiglia dobbiamo andarcene prima che ci bruci noi vivi presto seguitemi se volete sopravvivere ok boom unità distrutta ma che sta succedendo voglio un rapporto preciso gli abitanti della città stanno ammassandosi al portone cosa? l'uomo aperto dall'interno hanno iniziato a fuggire dalla città le nostre truppe sono state divise dalla folla non riescono a manovrare con efficacia ma che diavolo sta succedendo e chi è responsabile di tutto questo? ok sembra che il piano abbia funzionato le forze del nemico sono nel caos più totale non fateli riorganizzare dobbiamo attaccare Dorat immediatamente allora iniziamo benissimo adesso abbiamo organizzato bene le truppe per il combattimento quindi siamo in netto vantaggio ora quindi tu continua ad attaccare qua sì perfetto vedete? i castori i castori praticamente nuotano cioè è come se fossero delle truppe di terra a tutti gli effetti ok ok noi invece ora dobbiamo fare attenzione benissimo noi stiamo andando molto bene in questo caso ecco sbarramento ovviamente ma non è un problema non faranno grossi numeri come danno esatto siamo abbastanza abbastanza forti qui andiamo di rodere ecco l'unico problema è che adesso qua vengono praticamente ad attaccare le mie truppe esatto ecco questo è un problema infatti dobbiamo dobbiamo spostarci ora con la da hack dobbiamo ecco andare ad attaccare qui noi dobbiamo andare ad attaccare qui un altro rodere che ci sta così le allontaniamo sì però non da quel lato porca miseria ok abbiamo ridistribuito le truppe e vedi si stanno avvicinando maledetti infami ok qui andiamo normale no vado dove se n'è andata vabbè alla fine aveva solo 7 però è esatto il problema è che io avevo poco chiedertela forza ottimo allora recupero e lo facciamo qua qui andiamo di sbarramento e lo facciamo qui che siamo più forti esatto abbiamo tolto 90 punti praticamente ottimo e ora i castori invece andiamo di qua vedete così allora poi qua noi ci possiamo curare perfetto così prima distruggiamo le truppe di terra pezzo di tuono ok noi adesso ci mettiamo qua rodere perfetto perfetto qui noi adesso ce ne andiamo qua esatto ora ci stiamo praticamente tutti fermi e aspettiamo e aspettiamo vi facciamo la runa dell'acqua alla dark esatto recuperiamo un po' e qui adesso dobbiamo solamente attendere praticamente non dobbiamo fare altro ok qui possiamo andare noi abbiamo ancora una runa la possiamo sfruttare non dobbiamo cornellio che che comanda le truppe studenti ole sbarramento va bene ci sta però non è non è tanto forte noi abbiamo ancora una runa dell'acqua qui con con cornellio quindi ok adesso facciamo attaccare ai criceti ai castori non ai criceti in centro in modo tale da poi fare la runa dell'acqua per curarli e basta non let them get away bene l'abbiamo messi all'incrocio non si possono muovere più boom perfetto i castori potrebbero attaccare ok runa dell'acqua yes abbiamo ripristinato praticamente tutto qui recupero l'abbiamo utilizzato qui l'acqua l'abbiamo utilizzato sbarramento qui l'abbiamo utilizzato quindi va bene le truppe d'acqua hanno finito per il momento adesso ci possiamo concentrare con le truppe di terra quindi avanziamo piano piano facciamo scattare le truppe che sono tra l'altro tutte a piedi sono due archi e tutte lance quindi con le nostre truppe a cavallo siamo in vantaggio allora qui possiamo andare quelli sono fanteria pura quindi possiamo andare così e così qui andiamo carica a manetta proprio qui non facciamoci problemi non facciamoci letteralmente problemi perché poi curiamo tutti con la runa dell'alba donna Egbert troppo forte ragazzi personaggio incredibile personaggione incredibile Egbert qui andiamo normale ripeto non c'è problema ci curiamo tutti con la runa dell'alba qui andiamo di carica vedete arti curative nel frattempo ci aiuta a recuperare subito gli hp e questi sono andati ora noi andiamo sempre di qua altra carica arti curative e riposa probabilmente sono le migliori abilità da poter utilizzare qui abbiamo l'altra carica adesso non gli dobbiamo far capire niente cioè non devono capirci nulla che li abbiamo messi all'angolo e qua dobbiamo fare attenzione però ora questi li lasciamo fermi lì allora giù di carica tu avvicinati ok usiamo un recupero aia questo non doveva succedere questo è tremendamente sbagliato ok qui giù di carica ok stiamo praticamente massacrandoli senza perdere nessuno praticamente anche qua noi utilizziamo carica charge qua siamo costretti a fare carica che altrimenti subiamo danni non ha non ha charge qui va bene perfetto charge qui va benissimo ok ok terra farà credo che forse non ci sia bisogno neanche della runa alba vediamo Ok, facciamo l'ora Giusto che siamo tutti quanti in range Intanto abbiamo ancora un'altra terra nel caso da sfruttare dopo Ma dovrebbero, esatto, dovrebbero crepare Olè, li abbiamo recuperato praticamente tutti E noi adesso possiamo entrare Qui abbiamo tutte cariche Vedi a legna, il nemico è qui Allora sono proprio dopo li volevamo È il momento Esatto ragazzi La runa del crepuscolo Eh sì, qua prendiamo un po' di danno Ma che razza di magia era No, non può essere Un potere tanto grande non può essere nelle mani di una persona così indegna Il nemico è nel caos, ora possiamo riorganizzarci Voglio che tutte le forze si concentrino all'interno del muro di Doraat Joe, dobbiamo sopraffarli immediatamente È vero, è una magia impressionante da vedere ma senza nessuna efficacia militare Continuate l'attacco ma tenete gli occhi aperti Ah, pensavo mi facesse danno Invece no Pensavo facesse danno Invece no Ok, ce l'abbiamo fatto Abbiamo perso poche unità Vedete, soltanto 400 Quindi Abbiamo preso un bel po' di soldi Sembra che il nemico si sia barricato nella parte settentrionale della fortezza Ma chi aspettano? Andiamo a finirli Aspettate La magia che abbiamo visto mi preoccupa Se usata a breve distanza potrebbe essere davvero letale Andrò io Eccola lì Vabbè, tu saresti venuto a prescindere, Zerasi Tranquillo Chiunque sia folle abbastanza ad usare quella runa Deve essere fermato il prima possibile Joe, vieni con me Cosa? Con lei? Madonna, se me lo dici così Presto, da questa parte Io andrò sul lato posteriore, non si sa mai Non possiamo permetterci di lasciarli fuggire Non con un'arma tanto potente Mi servono dei soldati Ok, Lady Sialids Ma state attenta Senz'altro State attenti anche voi Ok, e abbiamo praticamente adesso il party che ce lo possiamo formare Qui dobbiamo formare il party Perché ci sarà una boss fight Quindi Alzared, come sempre Belkut No, in questo caso Dean Qua si sale un po' di livello E E al solito Io direi La nostra bella Jean Poi Qui al solito Egbert Personaggione incredibile E abbiamo adesso anche Taylor Che mi fa analisi Che è molto comoda Ovvero vedere quanti HP possiedono i nemici Ok Per ora mi servo solo questo Non ho altri problemi Allora Sistemiamo la formazione Dove Dean Va messo davanti Qui zerase Ok Ci siamo Andiamo Oddio Allora Allora Qui in teoria adesso dovrebbero esserci però gli incontri casuali Ah è perché qua siamo all'ingresso Ok Devo entrare di qua E È perché Sì ci saranno gli incontri casuali Però non mi ricordo se c'erano forzieri qua in giro Se c'era qualcosa da raccogliere o meno E tra l'altro non so se sono talmente forti da schippare gli incontri Però forse sì sapete Sì infatti c'erano i forzieri Elmo luna pallida E pezzo porta chiara Porta chiara Diciamo È un'assonanza con un'altra runa che già conosciamo Allora Io volevo vedere un secondo però Ecco Abbiamo questo Smettiamoli Equipaggiamoli Poi Dall'altro non mi ricordo se c'erano altri forzieri Ora li andiamo a controllare Ragazzi qui Adesso c'è una parte molto importante di drama C'è una parte veramente veramente importante Tactical di gru Che adesso voglio andarlo a vedere perché non me la ricordo Tutti più dieci precisione tecnica e velocità Precisione tecnica e velocità Wow Assolutamente sì Alzared messo lì davanti è un po' un pesce fuor d'acqua però È l'unico C quindi va bene Anello fiamma Va bene Questo mi interessa Ok Adesso Dobbiamo affrontare il boss E poi un'altra scena importante Molto importante Allora qui forzieri non dovrebbero essercene Che figata la runa del re Che non mi fa fare gli scontri casuali Perché qua i nemici sono più scarsi Ci permette di essere un po' più veloci Eccoci qua Tu Alenia Non pensavo che sareste Che sareste entrati così facilmente Ma niente Ora che siete qui vi ho in pugno Guardate Oh no Lo sapevo La runa del crepuscolo Finché abbiamo questa runa Non dobbiamo temere la runa dell'alba Immagino che Giselle sarà molto lieto Quando gli riporterò la runa dell'alba Insieme alle teste di voi ribelli Rimpiangerete il giorno in cui avete osato affrontarmi Smetti di parlare di cose che non comprendi Pazza E tu che diavolo dovresti essere? Come osi rivolge a ti a me in questo modo? Pensi davvero che una persona tanto ordinaria come te Sia in grado di controllare il potere di quella runa? Che insolente Silenzio Potrei fare la stessa domanda a te Perché saresti così speciale? La tua arroganza è inaccettabile E ora vedrai che ho tutta la forza necessaria Per controllare la runa del crepuscolo Esatto Boss fight Ok Qui facciamo proprio Una bella roba incredibile Anzi no Qua runa del tuono Ok Allora speriamo di shottare i soldati Anche se non credo di shottarli subito Vediamo Se li shottassi sarebbe tanta roba Eh infatti Ok Vabbè L'abbiamo shottato in un turno Vai È già È già in posizione Stanca lei Esatto Shottato in un turno Mamma mia quanto sono forti Nastro rosso è dipinto Ridicoloso Come potrei essere difettato? Mi pensavo che la runa del twilight Sia nonostante Sia nonostante Iscriviti No E' Dove Cosa? Cosa? Cosa stai? Non faccio nulla... Help! Cosa! 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 I bet Inferno! That's what happens, when an impostor tries to posses the rune. I'll take then the Twilight rune back now thank you. Who are you? DULTH! I wouldn't have cared if they captured you. But if they got the Twilight rune, Gazelle would be quite upset. Now get a hold of youself, we're getting out of here. Okay... Eh già Dice se ti avessero catturato Non sarebbe successo niente Ma in questo caso Dice tu hai perso La runa del crepuscolo Gizelle si incazzerebbe Perché come avete capito bene Alenia si è impossessata Della runa In modo non esattamente legale Cioè è stata forzata Ad utilizzare la runa Non mi ricordo se in queste stanze C'era qualcosa da prendere Non lo ricordo Eh vedi si Qua si Catena guardiano Quindi di conseguenza non è la stessa cosa Come il protagonista che ha avuto La runa dell'alba perché è scelto Da essa Sì sì Dobbiamo inseguire Alenia e Dolph Ora li inseguiamo Tu prima fammi prendere gli oggetti Non ti preoccupare Tanto non scappano Sono eventi scriptati questi No problem Dopodiché Sì staccheremo Perché nella prossima Nella prossima puntata ci saranno dei reclutamenti da fare Eccoci qua E già Mia Keyes Prince Leon It's been a while Hasn't it You both look well What are you doing here Mia Keyes? It doesn't matter Now get out of the way I'm sorry But I'm afraid I can't do that Did somebody tell you To guard this door? If they did Then they're just using you To help Alenia get away I don't mind I am a queen's knight after all So what if you're a queen's knight? Does that mean you take orders from gazelle or Alenia? You don't understand Being a queen's knight Is really the only thing that I have left But Mia Keyes As you know prince A queen's knight Must never abandon her duty Because of that If you want me to get out of your way You'll just have to defeat me No No Duello Quando parte questa musica C'è il duello You're taking on a queen's knight There's no need to hold back against me Prince Can you handle this one? Aya Time for you to go betty-bye You've really got your eyes open Huh prince Hey that really hurt Are you trying to make me cry? Hey that really hurt Now you're going to get the same I guess I ought to be a little more careful too No No Eh po' falli Eh non me ricordo le sue frasi All right no time to recover Porca miseria I guess I ought to be a little more careful too Ma porca miseria Sto sbagliando tutto Big moves like that tend to create openings you know Ok Ok Non fare attenzione adesso Hey that really hurt Are you trying to make me cry? Vediamo se riusciamo a fare il milagolo Now I'm going to get really serious No I won't give up yet Ok Avvicinati e dovrò darti un bacio Un grosso bacio Ok ce l'abbiamo fatta forse Madonna miracolo Non mi ricordavo le frasi Non mi ricordavo le frasi di mia kiss Quindi stavamo rischiando qua No 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 fair prince When did you get so strong What happened to that boy The cute boy that the princess Used to push around Come ando sa bacchetta Prince Prince I'm sorry I'm afraid I Can't protect the princess anymore I'm sorry Please forgive me Mia kiss Eh già Dannazione Sono scappati Bene bene Che ci fai qui Mi dispiace È opera mia Lo sapevo Cose del genere sono molto interessanti per una maestra delle rune Beh se è stata opera tua Credo di doverlo accettare Ma che mi dici delle altre rune Le hai provate? Non ho avuto fortuna con la runa del sole Capisco Se non ci sei riuscita tu Dubito che qualcun altro possa farcela Però la casata dei Godwin Sembrava sicura di trovare un modo Oltre alla metà della gente Che era scappata da Dorat È tornata alle proprie dimore Ora che la città si è accalmata Sembra che la nostra azione di conquista Sia stato un successo Però non mi sarei mai aspettata Che Elena riuscisse a indossare la runa del crepuscolo Vorrei che l'avessimo catturata Perdonatemi È tutta colpa mia vero? È sempre stato mio dovere Proteggere la principessa Dopo che Giselle mi ha tolto questo incarico Pensavo che rimanessero solo i cavaliere della regina Miakiss Stai bene adesso? Sì Sono un po' malconcia Ma quella batosta da parte del principe Mi ha aperto gli occhi Principe Il modo più rapido per aiutare la principessa È che vinciate la guerra Per questo vi chiedo di combattere al vostro fianco Vi prego Grazie mille Ce la metterò tutta E Miakiss diventa ufficialmente Un nostro personaggio adesso E questo è un evento importante Perché succederà qualcosa Che permetterà a Miakiss Di diventare importante Ma cosa faremo a proposito Della runa del crepuscolo? E perché non hanno lasciato che io la provassi? Perché l'hanno data da Lenya? Lady Siletz Ci sono delle qualifiche particolari Per indossare la runa del crepuscolo? Lady Siletz Oh Non saprei proprio Capisco Beh c'è altra gente a cui possiamo chiedere Sì ma avere informazioni da Zerase Si è dimostrato Alquanto arduo Principe Interroghiamo Zerase Un'ultima volta Dobbiamo scoprire cosa sa E' tremendo E' tremendo Pensare a quanto poco sappiamo davvero Ok E qui adesso Praticamente abbiamo anche Miakiss Che farà parte del nostro party Tra l'altro livello 45 Non è neanche tanto male Effettivamente Ok Adesso invece Direi che comunque per questo episodio Possa essere tutto Nel prossimo faremo qualche reclutamento E poi andremo ad interrogare Zerase Quindi Grazie ancora per essere stati con me E alla prossima